La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e successivamente sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno rec il seguito e l'audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI. Ricordo che nella seduta dello scorso 13 gennaio la Presidente aveva svolto una relazione al termine della quale erano intervenuti diversi colleghi per porre domande e richieste di chiarimento. Do quindi la parola al Presidente Maggioni e successivamente ai consiglieri che intendono intervenire per rispondere alle domande formulate dai colleghi. Buonasera a tutti. Di nuovo e per estrema chiarezza cercherò di essere breve per la semplice ragione che ci sono anche i consiglieri ed è un'opportunità per cui anche voi possiate interloquire con loro. E quindi partirò da alcuni dei temi abbiamo cercato di fare un lavoro per cui alcuni dei temi che erano stati sollevati da diversi membri della Commissione potessero essere riuniti sotto un comune denominatore. E partirei allora da alcune delle questioni sollevate. Una delle questioni sollevate era relativa alla necessità di ritornare a parlare della riforma dell'ambito dell'informazione. Era stata sollevata da diversi di voi. C'era la questione delle newsroom. Ecco, noi da questo punto di vista diciamo sostanzialmente che abbiamo cominciato il lavoro con la nomina di Carlo Verdelli, che tra l'altro vedrete la prossima settimana, credo, Presidente. Adesso non ricordo esattamente i lavori della Commissione O2. Insomma, comunque verrà direttamente a parlarvene. E certamente è iniziato un lavoro che ha come primo obiettivo quello di arrivare a una razionalizzazione di tutto il sistema dell'informazione, proprio perché, come è stato detto più volte, ci sia un utilizzo al meglio delle risorse che vengono affidate a RAI e non in sovrapposizione. Quindi l'indirizzo, la linea che si sta seguendo è esattamente quella, però vi chiedo, per ovvie ragioni, di rimandare all'incontro con Carlo Verdelli una sessione nella quale capire più a fondo in che direzione si sta andando. Altre questioni diverse erano state sollevate, sempre riguardo all'informazione sulle prospettive di televideo, sulle newsroom e su che cosa si sta facendo su RAI News, la risposta è esattamente la stessa. Molti di voi avevano parlato poi della sera di Capodanno, anche perché ci eravamo visti a ridosso delle note vicende su Capodanno. Sulla parte, sollevate in particolare dall'onorevole Liuzzi, delle risorse, io ho chiesto dati e verifiche, però noi siamo un consiglio ed è un po' la cosa che volevamo anche dire oggi, per cui non è sulla vicenda specifica o sulle cifre specifiche che possiamo in questo momento rispondere e intervenire. Quello è un discorso che rimanderei più direttamente a chi ha la gestione di queste cose, quindi alle direzioni competenti. Sempre sulla questione del Capodanno, da diversi membri della vigilanza era stato sollevato il tema delle polemiche relative agli anticipi e agli sms. Allora su una di queste due vicende siamo arrivati proprio in queste ore a una decisione aziendale e mi riferisco alla vicenda relativa alla scelta dell'anticipo del clock, dell'appuntamento orario in occasione del Capodanno e l'azienda è arrivata alla decisione di interrompere il proprio rapporto di lavoro con il dirigente che ha scelto di anticipare Capodanno. È stata fatta una istruttoria, è stato sentito questo dirigente che aveva chiesto di essere sentito e che ha confermato di aver scelto di fare questa cosa, di aver scelto di anticipare l'orologio e il tema è che per noi questa scelta voleva dire sostanzialmente mettere in discussione il rapporto tra il servizio pubblico e appunto i cittadini, mettere in discussione la credibilità del servizio pubblico. Questa è stata una scelta deliberata, autonoma, non autorizzata da nessuno, nella quale tra l'altro altre strutture aziendali hanno cercato di far sì che questo non accadesse ma è stato impossibile intercettare la persona in questione perché non ci fosse questo tipo di anticipo. Sostanzialmente il problema è che l'azienda non ha ritenuto accettabile questo comportamento da nessun punto di vista perché la forza del servizio pubblico è la credibilità rispetto ai cittadini e il decidere scientemente di minare questa credibilità perché milioni e milioni di italiani hanno iniziato il 2016 prima di quanto si potesse immaginare è stato considerato un atto che proprio perché scelto non fosse accettabile. Insomma non è questa l'idea di servizio pubblico che abbiamo e non è dicendo si faceva sempre così, cosa poi dimostratasi non vera perché è stato detto da parte di questo dirigente si faceva sempre così invece nell'istruttoria del capo del personale emerge dalle carte che non si faceva sempre così che è stato fatto ad hoc in questa occasione e lo dimostra questa istruttoria e i documenti presentatici dal personale che ha condotto l'istruttoria quindi insomma non è, questo voglio che sia molto chiaro però ne abbiamo parlato a lungo col direttore generale e il tema vero è che nessuno ha intenzione di considerare questa come una sorta di provvedimento esemplare no, nessuno ha intenzione di avere atteggiamenti di questo tipo a fronte di un'azione molto grave è stata decisa una conseguenza ma non c'è la volontà di fare quelli che fanno le azioni dimostrative no, è semplicemente un tema di serietà aziendale rispetto alla gravità di quello che è accaduto questo dunque sulla vicenda del capodanno era stato sollevato dal senatore Crozio la questione dello sci e più in generale di come stiamo trattando lo sport sullo sport c'è un, ne abbiamo parlato anche proprio di recente nel consiglio di amministrazione di ieri poi i consiglieri potranno intervenire e raccontarvi anche di più su questo ma insomma noi consideriamo lo sport un pezzo centrale dell'azione di Rai e su questo andremo anche a migliorare le cose di stamattina una buona notizia che abbiamo acquisito i diritti di 10 gran premi per le dirette di 10 gran premi di Formula 1 per quest'anno e credo 11 ma non mi vorrei sbagliare per la ritrasmissione indifferita è un segno, stiamo molto lavorando su quella che sarà la prossima estate sportiva e sappiamo tutti che sarà ricca di appuntamenti quindi insomma verosimilmente anche lo sci alpino ritornerà in qualche misura a essere più al centro della scena e con maggiore cura come veniva evidenziato un passaggio rapido sulla questione del piano industriale che veniva sollevata da numerosi commissari ma in particolare il senatore Rossi diceva come fate a fare un piano industriale in buona sostanza mi si perdoni per la sintesi magari maldestra ma insomma in buona sostanza era come fate a fare un piano industriale se siete alla vigilia di un rinnovo di contratto di servizio che potrebbe cambiare completamente le regole del gioco la mia risposta e la nostra risposta è come si fa a immaginare un'azienda senza un piano industriale è chiaro che in presenza di mutate regole riadatteremo il piano industriale ma è nostro dovere in questa fase avere una progettualità precisa per l'azienda e per il futuro dell'azienda dopodiché prenderemo atto delle scelte di quello che accadrà e quello che auspico essere un dibattito il più largo possibile e a quel punto il piano industriale verrà riadattato su questa base permettetemi di alcuni dei temi poi potranno essere veramente trattati specificamente anche dai consiglieri ai quali voglio dare la parola quanto prima un passaggio senatore Irola sulla questione di Rai Expo avevamo poi detto e fatto sapere che la struttura non è lì fine a se stessa le persone stanno lavorando in questa fase con la direzione digitale e permettetemi di rifare un passaggio su questa cosa la direzione digitale che abbiamo perfezionato in queste settimane sta diventando veramente uno snodo chiave dell'azienda stiamo veramente tentando di capire non di capire ma di mettere in campo già strategie per essere efficaci sul piano del digitale e di conseguenza anche questa scelta di prendere energie in più persone in più che c'erano all'interno di altre strutture aziendali e portarle, farle convergere sul digitale vuol dire che non è formale la questione di dire ah ok anche la Rai ha la sua direzione digitale come tutti e siamo felici no non è questo è una strategia, è centrale rispetto all'azienda Giampaolo Tagliavia sta facendo un progetto che è un progetto che attraversa tutti i luoghi dell'azienda tutte le direzioni e di conseguenza penso sarà particolarmente efficace devo dire su quello stiamo puntando attenzioni, risorse ed energie c'erano dei passaggi sulla ricezione dei segnali sui quali abbiamo preso informazioni e ovviamente ci dicono che su questo si sta lavorando il più possibile per essere il più efficace possibile perché siamo abbastanza d'accordo che è vero che i limiti di legge noi li rispettiamo tutti perfettamente è altrettanto vero che sentiamo anche il bisogno e vorremmo essere efficaci al 100% insomma perché è chiaro che quando anche c'è un cittadino che non lo riceve è un momento in cui veniamo meno a una serie di doveri però se voi siete d'accordo e se questo non mi garantite non in genere ulteriori polemiche io vorrei dare davvero la parola ai consiglieri perché se no mi sento come dire accompagnata da una serie di signori e signore guardanti che invece hanno pareri e opinioni che vorrei potessero condividere con voi quindi se il Presidente lei è d'accordo aprirei a loro Preccero, prego Innanzitutto grazie signor Presidente e grazie soprattutto signor onorevoli sedatori deputati per questo invito vorrei iniziare subito facendo le scuse all'onorevole Ansaldi con cui alcune volte mi trovo in disaccordo anzi quasi sempre in disaccordo dovuto alla sua interperanza la sua diciamo così decisione di poter sempre sindacare su questioni che poi lui non conosce io chiedo scusa per le mie espressioni le chiedo scusa ma lui dovrebbe anche però stare un po' più attento verso di noi soprattutto è la sua dimostrazione di quanto vedi giustamente come dici tu è la dimostrazione della sua arroganza e di come il suo comportamento e la riprova di questa cosa innanzitutto quando ho detto esattamente esattamente Frecciaro Frecciaro perché non essendoci Ansaldi senza se no poi Ansaldi non può rispondere è con Tommace però vedi la riprova che lui insula così però scusita a Erola andiamo avanti però le chiedo scusa infatti io ho detto chiedo scusa però quando io dico che Presidente però io chiedo scusa prego Verluccio spero che questa audizione infatti abbiamo si mantenga esatto tra l'altro l'onorevole Ansaldi è tra i più presenti ai lavori di questa commissione non mi pare che venga additato siccome non c'è non parliamo di Ansaldi già detto allora però però ho fatto presente che le chiedo scusa più di così però invito anche l'onorevole Ansaldi a misurare i termini dicendo non puoi sempre dare definizioni sbagliate sulle persone bene allora io mi sono concentrato su un intervento molto importante perché mi misuro sempre io trovo queste occasioni sempre in qualche modo per capire se sono nella condizione giusta se sono le mie idee che sono che veramente voi sapete benissimo in una parte eccetera se sono la mia visione corretta oppure no e mi ha colpito molto l'intervento del senatore Rossi che è completamente appunto parte dalla posizione opposta alla mia e ancora ieri sosteneva il senatore Rossi nel famoso dibattito organizzato brillantemente dal nostro collega Arturo Diagonale a cui faccio i complimenti anche in commissione eccetera e dove anche devo dare anche atto pensate un po' pensate un po' all'onorevole mi costa dottore eccetera che è stato organizzato in un convegno e di grande valore eccetera le faccio i complimenti bene dicevo perché mi pone delle dice sempre non ci va mai risposte e invece io provo a dare queste risposte perché credo che il nostro compito sia quello sempre di misurarsi con le cose più difficili e soprattutto per un altro motivo qual è il motivo è che il senatore Rossi indirettamente o direttamente diciamo la verità direttamente è legato a una rete primo canale che in questi giorni sta facendo un'opera molto 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 importante sulla questione ILVA lo dico a te fra tuoi anni dove io credo che dovremmo anche stare un po' più attenti e non perdere tanto tempo sul gender ma dovremmo più occuparci naturalmente di operai perché il gender molte volte nasconde tanti altri discorsi molto più importanti il gender è un motivo per evitare la realtà questo qua è un tema so benissimo che è un'affermazione pesante da parte mia ma io trovo che molte volte questo gender discorso del gender nasconde tante altre cose bene e lo dicevo al primo canale fa una cosa molto bella al mattino fare sempre riprendere le manifestazioni a Genova sull'Ilva con grandissimi ascolti e a cui faccio i complimenti di cuore di questo di questa su questo tema che per me è capitale molte più che altre cose bene allora ritorno al question time l'intervento del senatore Rossi sembrava quanto mai oggettivo e asettico nella misura in cui pone una serie di domande tecniche a partire da una serie di scadenze e di incombenze legate alla normativa vigente ed imminente pubblicazione cioè la concessione dell'asservizio pubblico della RAI scade il prossimo 7 maggio l'IDL RAI è naturalmente approvato prevede al punto 5 dell'articolo 5 una ridefinizione del concetto di servizio pubblico tramite una consultazione pubblica da cui deriva la sua domanda di base come può oggi la RAI predisporre un piano industriale senza neppure sapere sottorare la concessione e in via subordinata per attualizzare appunto per rendere rifare e ricordare le tue domande fatte l'uppone delle domande successive a come dovrà separare la RAI come un servizio pubblico finanziato dal canone dall'entrettenimento finanziato dalla pubblicità potrà avere accesso al web quando in Germania questa opportunità è stata fortemente limitata dal governo per impedire la concorrenza ideale rispetto agli operatori privati terzo e ancora quanti reti potrà conservare eventualmente la RAI una volta ridimensionata e ricondotta la dimensione ristretta del servizio pubblico quarto quanto durerà la concessione quinto su quali basi verrà assegnata e via discorrendo comincerà a rispondere vorrei subito chiarire che dal mio punto di vista le domande del senatore donorevole senatore Rossi più che domande si pongono come affermazioni di una concezione di servizio pubblico estremamente limitata unita alla valutazione della RAI come possibile concessionaria non come erogatrice di un servizio sociale questo qua è il tema su cui ho dibattuto anche ieri Gaspari lo dico per me è una erogatrice di servizio sociale ma soprattutto come secondo l'onorevole Rossi semplice azienda industriale in competizione e conflitto con altri gruppi privati non a caso ravviso qui un possibile conflitto di interessi perché l'onorevole senatore è concessionario o meglio titolare della rete privata primo canale e si preoccupa nel suo intervento dell'erogazione di fondi pubblici alle sedi regionali RAI come un possibile e in proprio aiuto di Stato ma le argomentazioni del senatore Rossi possono essere rivolte anche verso di lui se il significato del servizio pubblico deve essere ancora stabilito sulla base delle modalità di cui l'articolo 5 appunto 5 della legge sulla RAI riforma RAI come possiamo già oggi dare per scontata a una lettura della RAI come è possibile concessionare dallo stesso solo in veste di azienda industriale produttore di utili ancora da stabilire quindi non si può secondo il servizio pubblico televisivo per riprendere una frase di un autore che io conosco personalmente Regis Debré che in qualche modo neanche in qualche modo con cui ho discusso nasce in Europa come complemento della pubblica istruzione è vero che il liberismo imperante tende a vedere tutte le manifestazioni dello Stato sociale come semplici forme di produzione materiale e sta trasformando in aziende scuole e altre lo sappiamo ma non è su queste basi che è nata l'Europa ed è anche vero che se il significato del servizio pubblico dovrà essere oggetto di consultazione pubblica non è detto che questa visione puramente economicista sarà condivisa faccio un accenno io penso naturalmente a referendo sull'acqua che ha avuto un'altra ma questo lo lascio da parte però per dire che ci sono altre cose che si può vincere su questi temi e vediamo ora la domanda principale se la RAI non ha ancora ottenuto la concessione come può predisporre un piano industriale credo che l'onorevole Rossi volesse sottolineare il rischio che la concessione sia concessa automaticamente senza una vera gara è vero però anche l'opposto un'eventuale gara non può che basarsi su progetti quanto più dettagliati possibile e lei giustamente parla della BBC due anni bene inoltre nel caso di un soggetto come la RAI che si occupa di produzione di cultura e non di semplici beni materiali la predisposizione di un piano industriale non può prescindere dalla presentazione di un piano editoriale ad esempio la valorizzazione del web e delle reti digitali nei confronti delle reti generaliste non può essere solo una scelta economica e qui lo dico lo ripeto non si può leggere questa legge solo in questa chiave di economicistica ma anche soprattutto una scelta editoriale che come tale rimanda alle decisioni di cui è l'articolo 5 del decreto ma può la RAI indicare la propria linea editoriale prima di tali scelta e questa qua è la domanda che occorre post ma può la RAI la mia opinione è che non solo può ma deve come soggetto fondatore del servizio pubblico televisivo e come attuale garante dello stesso non può far mancare un'opinione qualificata di una consultazione che ne riguarda il futuro e la RAI che sono 50 anni che fa televisione come può non avere questa concezione ma nel momento in cui elabora il suo piano editoriale la RAI fa una sua proposta concreta su cosa debba intendersi oggi per servizio pubblico ed è sicuramente più indicata farla più di ogni altro operatore perché è l'unico soggetto sul mercato ad avere esperienza in merito vorrei ora se mi è concesso e chiudo fare una domanda agli legislatori facendo mia invece la metodica di Rossi lo faccio a voi se la funzione del servizio pubblico deve essere stabilita in seguito ad un pubblico dibattito perché tutto il disegno leggerai è improntato a semplici criteri economicisti e di propaganda vi hai di propaganda sottolineo tanto che le nomine fanno capo al ministro dell'economia e del consiglio dei ministri che sono poi naturalmente nominati con la seconda legge italica dai capi che voi conoscete grazie grazie Frecciano abbiamo Sidi prego sì presidente presidente se posso prima dell'intervento di Sidi io sull'ordine dei lavori vorrei chiedo innanzitutto a lei che cosa quale sia la natura di questa audizione perché la cornice di questa audizione è sapere dal consiglio di amministrazione quali sono gli intenti per il mandato che questa commissione ha conferito loro se invece si intende questa audizione come un momento per sfidare spettacolarizzare questo momento di dialettica che è importante per le istituzioni allora certamente penso siamo pesantemente fuori strada però lo chiedo innanzitutto a lei presidente visto che non è mai intervenuto finora no sono intervenuto e sono intervenuto proprio sulla questione di Anzaldi che non c'era visto che è stato detto qualcosa su Anzaldi abbiamo detto che Anzaldi non c'era e quindi siamo andati avanti su quello e ho appoggiato anche quello che le ha detto poi su un discorso cerchiamo di comprendere anche che cosa è stato detto prima di fare arrivare a un finale abbiamo visto sentito il discorso di Freccero vediamo anche altri consiglieri che cosa ci dicono ma la cornice sicuramente è di avere delle informazioni dai consiglieri di amministrazione su ciò che noi abbiamo anche chiesto nell'ultima seduta prego Sidi signor Presidente onorevole deputate e deputate e senatori io sono grato di essere stati convocati qua per dire per entrare in colloquio diretto con chi ci ha letto ci ha dato l'onore di essere letti nel Consiglio di Emiliazione della RAI è un mandato impegnativo lo è tanto più nel tempo del cambiamento di una transizione importante e che con la legge il Parlamento ha deciso legge che noi dobbiamo cercare di applicare al meglio nel operare per garantire che il servizio pubblico sia tale e riconosciuto tale da tutti gli italiani e sia soprattutto l'azienda culturale di intrattenimento di informazione ancora più importante e rappresentativa di tutti e di tutte le tendenze garantendo con ciò probabilismo il Consiglio ha soprattutto credo questo compito in ascolto e in sinergia costante con il Parlamento e per esso oggi la Commissione di Vigilanza che ha dettato più indirizzi nel tempo e entro i quali deve lavorare il nuovo Consiglio sapendo che non è un Consiglio che appartiene alle vecchie logiche che per cui è titolare di quote di rappresentanza che si traducono in quote di nomine di poteri di persone dentro la RAI ma è titolare di un potere di interlocuzione di influenza affinché appunto attraverso gli atti di amministrazione di scelta editoriale la RAI sia quello che deve essere il servizio pubblico per gli italiani quindi il piano editoriale va al centro e i consiglieri hanno il compito di cooperare su questo sapendo che il Parlamento ha voluto porre al vertice per la prima volta un capo azienda nel tentativo di far diventare la RAI come si dice da decenni un'azienda normale considerando che evidentemente se non lo sarebbe stata poi in realtà se andiamo a vedere la RAI è piena di talenti di tesori e di un patrimonio inestimabile di grandissimo valore per l'Italia di cui credo debba andare orgoglioso il Paese un patrimonio rilevante che il Consiglio di amministrazione ha il dovere di concorrere a tutelare e valorizzare questo è il compito oggi del CDA nel momento in cui si passa ad una gestione che vede un capo azienda in qualche modo al vertice titolare di moltissimi poteri e allo stesso tempo di grandi responsabilità titolare di responsabilità primarie che tengono che tengano però conto dei limiti della legge e qui allora è importante che il lavoro di indirizzo che arriva dagli organi parlamentari sia sempre più chiaro e preciso io penso che sia difficile operare per un consigliere se gli si chiede di agire per un caso personale può esserci anche questo perché abbiamo anche il dovere di essere in ascolto di tutto ci mancherebbe altro ma è più importante poter agire se c'è un indirizzo significativo che riguardi le politiche di sistema e che quindi che riguardi il rapporto col mercato della pubblicità piuttosto che il rapporto con la produzione editoriale propria o che riguardi il rapporto con la qualificazione del lavoro che viene garantito dalla RAI in un settore quello dell'audiovisivo che in Italia complessivamente dà lavoro a un milione e mezzo di persone e la RAI è il cuore di questo sistema e quindi credo sia importante per il paese avere riferimento in riguardo a tutto questo allora se così è il consiglio di amministrazione ha bisogno qualche volta di qualche indirizzo in più noi in questi giorni ci siamo esercitati per esempio sullo statuto ieri abbiamo licenziato come CDA lo statuto che va all'assemblea degli azionisti chiaramente è lo stato il paese che lo renderà poi esecutivo avendo riguardo totale per ciò che la legge ci ha prescritto taluno ha immaginato che dovessimo fare una valutazione dello statuto parlando all'indietro cioè guardando al dibattito parlamentare sulla legge che lo ha definito che invece si è definito quel dibattito allo stato attuale chissà per quanti anni le leggi sulla televisione è difficile farle ma ogni volta chissà voi durano molti anni ne sa qualcosa il senatore Gaspar allora di fronte a quello magari qualche aiuto in più io lo avrei gradito personalmente non c'è stato abbiamo provato a fare noi ma fare che cosa con l'aiuto degli specialisti interni della RAI del ministero dell'economia eccetera ciò che appunto la legge ci consente di fare trasferire nello statuto le norme poi ci sono dei punti adesso che vengono al pettine perché chiaramente alcune situazioni vanno registrate adesso nel tempo è la prima volta siamo tutti in fase sperimentale da questo punto di vista non ne farei un dramma il direttore generale ha il compito di assumere ha il compito di definire i criteri per esempio per le assunzioni sentito il CDA sarà importante che il CDA si abbia interloquire rispetto a questa norma cosa significa dettare i criteri sentito il CDA imporli o cercare di avere un quadro preciso di cosa si vuole fare è chiaro che avendoci il Parlamento consegnato un obbligo di esercitare queste attività nel rispetto dei principi di trasparenza dettati dalla legge e dalle mozioni parlamentari uno dei primi atti è stato quello di già di prevedere subito il piano della trasparenza nel rispetto della legge subito entro il 31 gennaio siamo arrivati in anticipo e per quello che è stato fatto in passato noi non c'eravamo la RAI ha ricevuto il plauso per essere in avanti su questo tema poi veniamo continuamente investiti dal fatto che invece ci sarebbe un problema sugli stipendi anche quelli dei consiglieri da questo punto di vista mi pare che non esista il problema perché nel tempo le leggi hanno definito un compenso per i consiglieri nettamente inferiore a quello del passato sia dell'epoca della legge e mammissia dell'epoca della legge Gasparri siamo nettamente al di sotto e addirittura i pensionati sono condannati a non avere neanche il compenso dovuto immaginando che la pensione sia una retribuzione la pensione riguarda un lavoro svolto i contributi versati per un'attività pregressa ma quando uno fa un'attività a cui è chiamato peraltro in nome dello Stato per garantire un servizio pubblico che assumendosi ogni responsabilità davanti alla legge a termine del codice civile e dei controlli della Corte dei Conti credo che ci sia una riflessione da fare ma questo lo dico a un passant è più importante per noi poterci cimentare sul campo dell'innovazione allora in questi mesi si dice non è stato fatto nulla da qualche parte perché non sono state fatte nomine dei direttori dei telegiornali piuttosto che delle reti il direttore generale barra amministratore delegato prima o poi farà assumerà anche queste iniziative ma ha dato un'indicazione che abbiamo condiviso e l'ha condiviso l'ho limitato tutto il CDA credo sia importante questo prima il progetto poi le nomine allora il progetto editoriale ci sta ancorché non ci sia la nuova concessione perché credo sia sarebbe veramente incredibile che non ci fosse entro i cinque mesi da oggi entro quattro mesi da oggi il rinnovo della concessione verso la RAI mi pare che comunque l'orientamento sia questo allora se mai ho sentito una domanda arrivare su questo anche a noi quando fate la consultazione pubblica la consultazione pubblica non la possiamo promuovere noi voi lo sapete e noi ci stiamo attrezzando per essere partecipi se serve con tutto il bagaglio di proposizioni che il consiglio l'azienda è in grado di mettere in campo in un confronto che sarà pubblico ma più che altro la RAI dovrà ricevere soprattutto gli indirizzi da lì e la concessione non è un fatto secondario rispetto a tante cose che sono state anche praticamente messe in campo sul piano delle problematiche tecniche persino il Presidente ne ha accennato rispondendo brevemente al segnale che manca in alcuni luoghi del nostro territorio nazionale riguarda la mia terra riguarda la Puglia l'ha detto l'onorevole Frattoianni riguarda il Piemonte riguarda tanti altri sul Piemonte abbiamo saputo ci sono soluzioni in corso su altre regioni siamo indietro ma lì è importante se la legge dice che va coperto il 98% mi pare del territorio o meglio della popolazione allora la RAI è in regola in teoria ma credo che occorra mettere in campo delle azioni sinergiche qui perché si è coperto tutto è giusto nel momento in cui il canone non potrà essere più evaso che sia il segnale garantito a tutti trovando le modalità sapendo che la RAI però anche per gli indirizzi che il Parlamento ha dato su questa materia è organizzata diversamente ha un'articolazione societaria in holding con una società propria railway che si occupa degli impianti delle trasmissioni che è partecipata a maggioranza e quindi contratta dalla RAI ma non è solo la RAI io credo che sarebbe utile un'interlocuzione sulle partecipate anche da questo punto di vista e sia utile capire in concessione cosa c'è e cosa non c'è così come sarà utile nel contratto di servizio ai fini dell'adeguamento del piano editoriale capire cosa oltre agli sforzi che può fare il Direttore Generale il Presidente il CDA il Parlamento e il Governo intendono dire per quanto riguarda le minoranze linguistiche se sono solo quelle fino ad oggi previste o se sono anche quelle che stanno in Calabria albanese o quelle che stanno nella mia regione che hanno la lingua sarda e così via e come coniughiamo le strutture di programmazione ma già intanto si fa un lavoro che guarda in avanti proprio ieri il Direttore Generale illustrando un passaggio di elaborazione in corso verso il piano industriale che comunque un'azienda deve preparare a prescindere da tutto ha delineato delle opzioni per la qualificazione dei centri di produzione esistenti quelli di Milano quelli di Napoli quelli di Torino per una RAI quindi sempre più presente nel territorio e non solo come si dice nel secondo un'accezione comune che non corrisponde del tutto alla realtà a Roma e questi sono elementi importanti a cui il CDA può concorrere deve concorrere in termini strategici il CDA è chiamato a fare un lavoro strategico che deve poterlo fare appunto mettendo in campo delle sinergie utili e positive la legge da questo punto di vista è un potente motore non è un freno la legge poi sarà criticabile da ciascuno a seconda della proposizione su altri aspetti ma su questo punto è una legge importante perché aiuta se si vuole a far diventare la RAI davvero più da questo punto di vista più azienda e nel frattempo però occorre ricordare che la RAI deve cambiare vuole cambiare sulla base anche degli indirizzi che la commissione parlamentare ha dato nel tempo io ho guardato i documenti precedenti al nostro ingresso che riguardavano per esempio sull'informazione del newsroom l'opinione generale era che ci fosse un indirizzo a fare così le cose come erano state fino a quel momento presentate ma c'erano tante di quelle opzioni poi di raccomandazioni nelle deliberate della commissione parlamentare che credo che abbia fatto bene il direttore generale a chiedere e il CDA ad approvare una sospensione in qualche modo di quel progetto per ridisegnare proprio l'offerta informativa complessiva delle testate delle reti eccetera individuando una direzione di coordinamento editoriale che possa avviare un disegno di sinergie utili nel rispetto e nella salvaguardia delle specificità e quindi nella garanzia di un progetto che sia a garanzia del pluralismo con quelle economie che voi garantite che voi ci chiedete che non devono essere però la condizione attraverso la quale la RAI si limita a fare un progetto di carattere economicistico come ci ricordava poco anzi il collega Frecero la RAI deve fare quindi evidentemente una offerta che tenga conto di un equilibrio di conti perché non è ininfluente questo dato sarebbe sbagliato non tenere in conto questo elemento assolutamente e far funzionare al meglio le cose di cui dispone razionalizzando organizzando e allo stesso tempo mantenendo specificità forti e incrociando le offerte sapendo che ha tre canali generalisti principali importantissimi come nessun altro servizio pubblico al mondo oggi offre con un canone che è il più basso d'Europa e allo stesso tempo tante reti tematiche su cui magari un ripensamento serio riorganizzativo produttivo e appunto con valore sinergico potrà rendere il servizio evidentemente più efficiente e come dicevo nel frattempo il cambiamento che il Parlamento ha chiesto e chi ha affidato a questo DG a questo Presidente a questo CDA è un cambiamento che deve andare avanti mentre la RAI continua ad andare in onda 24 ore su 24 cioè è una macchina un'azienda speciale da questo punto di vista non è che dici fermo i motori cambio tutto trasferisco apro una nuova sede non è così devi continuare a fare quello e nel frattempo cambiare e non è facile perché occorrono anche i sossi nel frattempo io segnalo io ho finito tre cose o quattro fondamentali fatte in poco tempo in poco tempo che hanno valore economico e culturale negli primi atti che sono stati proposti o comunque assunti direttamente dal Direttore Generale c'è il primo accordo europeo di un broadcaster con Netflix con un fenomeno diciamo così nuovo ma potente utilizzato soprattutto dalle nuove generazioni per seguire soprattutto film serie eccetera in cui la RAI è produttore non era mai accaduto prima poi si sono aggregati subito dopo altri si è aperta una strada e quindi la RAI ha risposto ad un obbligo in qualche modo che gli appartiene di essere motore primario da questo punto di vista la RAI ha dato l'indicazione di tornare a fare quanto più possibile pubblicità di qualità accanto a programmi di qualità abbassando fortemente quella linea degli sconti dissennati in qualche modo però necessari per sopravvivere in un tempo di crisi come quello che abbiamo vissuto oggi c'è qualche segnale di cambiamento e la RAI è il primo che prova ad invertire la tendenza correndo magari qualche rischio ma lo fa scientemente per cambiare anche da questo punto di vista la RAI ha avviato il coordinamento appunto editoriale ha cominciato a dare delle indirizzi nuovi per quanto riguarda la programmazione dei canali per minori immaginando e prevedendo dalla fine della primavera grosso modo la fine della pubblicità sui programmi dei minori sui canali dei bambini il piano della trasparenza ne abbiamo parlato e continua a mandare avanti il piano tecnologico e sta modificando pian piano la sua organizzazione ecco lì dobbiamo essere tutti attenti e protagonisti ne ha già accennato in parte anche il collega Freccello la direzione digital risponde a questo sarà una struttura abbiamo visto che avrà un suo rilievo e dovrà essere capace però di coordinarsi e di dialogare con tutte le reti con tutta l'offerta informativa editoriale anche pubblicitaria perché no in questo aprendo quella strada significativa alla trasformazione al diventare media company personalmente mi piacerebbe molto se diventando media company la RAI sapesse diventare sapesse essere anche sul web per esempio la prima tv civica degli italiani di quelli di oggi ma anche di quelli che arrivano quando arrivano i migranti da noi arrivano scalzi spesso nudi ma hanno quasi tutto un telefonino e si connettono subito a internet sarebbe bello se l'Italia avesse un marchio riconoscibile e ce lo avesse con la sua azienda pubblica con il suo servizio pubblico con un servizio pubblico da offrire a questi cittadini o anche a questi cittadini in transito che vivono grandi difficoltà e realizzando lì quel disegno negli anni 2000 è rotti di televisione servizio pubblico radio media online eccetera complessivo quindi che è al servizio dei cittadini e concorre alla sua alfabetizzazione non solo tecnicamente digitale ma di servizio pubblico di servizio civico e anche di formazione civica questo è un impegno che come consiglieri cerchiamo di sollecitare continuamente e su cui io spero di poter trovare anche il consenso più forte ancora del Parlamento magari già a partire dal contratto di servizio con le giuste rivoluzioni lo sguardo all'estero il Parlamento ha dato delle indicazioni nelle prime linee che sta indicando il direttore generale di cui il Consiglio sta dibattendo c'è un'indicazione precisa in questa direzione in questa direttrice lo sguardo la RAI per l'estero magari anche in inglese ma anche per i cittadini italiani all'estero non dimentichiamoli mai anzi su questo credo che dobbiamo fare un salto di qualità rispetto al passato avendo fatto un'esperienza decennale nel Consiglio Italiano all'estero so bene e conosco bene quel tipo di problematiche credo che sia molto utile che la RAI sappia essere proprio la RAI di tutti gli italiani ovunque si trovino nel mondo e questo è uno dei motivi in più perché il servizio pubblico perché la RAI sia servizio pubblico e lo fa quanto più si qualifica senza rinunciare dopodiché ecco io la finisco credo che avremo tempo in modo di ritornare sui particolari delle osservazioni che sono state fatte anche perché alcune le risposte sono state date velocemente ma precisamente dal Presidente altri appartengono sicuramente alla gestione diretta del Direttore Generale più che al Consiglio altri ancora appartengono all'iniziativa politica ho fatto anche cenno al significato di alcune istanze in qualche modo rappresentate che anche noi penso condividiamo anche da cittadini che però devono essere nelle leggi o negli indirizzi parlamentari o negli atti parlamentari o di governo che devono essere rivolti alla RAI e coordinati con la RAI perché possono essere poi attuati perché se facciamo solo ordini del giorno tutti poi dopo non riusciamo a vedere gli atti conseguenti che siano le meronanze linguistiche che siano il segnale di ricezione o che siano altre cose certamente occorre che ciascuno faccia il suo mestiere cioè ci avete dato l'autonomia si vuole l'autonomia credo che noi dobbiamo rispettare l'autonomia di chi sarà preposto poi a dirigere le reti a dirigere le testate e ai quali noi ecco lì sì avremo il compito e il dovere di chiedere conto se non saranno all'altezza del compito affidato grazie grazie Diaconale prego anche io ringrazio la Comipresidente i componenti della Commissione e colgo immediatamente voglio dare una risposta a un intervento che aveva fatto il Senatore Irola nella precedente audizione e in particolare alla sua sollecitazione al Consiglio ad essere punto di riferimento delle istanze provenienti dall'azienda perché credo che questa domanda sia utile per capire il ruolo del Consiglio di Amministrazione che si è venuto a trovare adesso il ruolo sostanzialmente inedito di questo Consiglio di Amministrazione esiste una circolare della precedente gestione gubitosi ne abbiamo parlato ieri in Consiglio e ho chiesto al Direttore Generale se era confermata e lui si sarebbe informato se fosse stata confermata o meno ma credo che non sia mai stata abrogata una circolare che stabilisce il divieto per i dipendenti RAI di rivolgersi direttamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione stabilisce il divieto annunciando sanzioni in caso di questo di questa interlocuzione ora in passato il Consiglio di Amministrazione era il punto di riferimento naturale delle varie anime presenti all'interno dell'azienda io faccio il giornalista parlamentare dal 74 ho seguito per tanti anni i lavori della Commissione di Vigilanza perché mi occupavo proprio dello specifico dell'ORAI e sono testimone diretto della sedimentazione delle lottizzazioni che si sono verificate nell'azienda pubblica nel corso dei decenni perché ahimè sono il consigliere anziano purtroppo però anche per fortuna perché ho un po' di esperienza storica e di memoria storica e quindi i consiglieri fino ad un determinato periodo hanno svolto una funzione che non era codificata nessuno aveva stabilito che i consiglieri dovessero essere i punti di riferimento ma nell'epoca in cui diciamo nell'epoca della cosiddetta lottizzazione i consiglieri erano il punto di riferimento di queste fette di lottizzazione che poi nel corso degli anni si erano affassellate modificate aumentate moltiplicate noi non lo siamo più non lo siamo più perché non solo perché c'è questa circolare che vieta l'interlocuzione ma perché oggettivamente abbiamo cambiato ruolo e vorrei sottoporre all'attenzione della commissione di vigilanza la condizione particolare in cui questo consiglio opera perché noi siamo l'ultimo consiglio che è espressione del Parlamento ma del Parlamento inteso in maniera ampia e pluralista e siamo quelli che debbono preparare la transizione all'avvento di un consiglio che sarà espresso sostanzialmente da parte dell'esecutivo io non entro adesso nel merito perché ci sono ragioni che possono spiegare è bene che ci sia un consiglio espresso esclusivamente dall'esecutivo sempre naturalmente che ci siano le condizioni perché gli esecutivi possano cambiare e quindi ci possa essere un'articolazione democratica si spera in questa fase intermedia qual è il nostro compito? e io mi rendo conto che la commissione vive ancora nella commissione forse ci sono ancora aleggiano ancora le esperienze del passato perché tutte quante la gran parte delle domande che ci sono state poste sono domande che riguardano la gestione domande a cui noi possiamo rispondere soltanto chiedendo agli uffici al direttore generale ai funzionari di darci le risposte per poi a nostra volta dare risposte alla commissione di vigilanza perché noi direttamente sono questioni che non possiamo non possiamo toccare che cosa possiamo fare qual è il nostro compito il nostro compito è di essere garanti di dare funzioni di indirizzo e di essere garanti di che cosa di che cosa del funzionamento del servizio pubblico ma che cos'è il servizio pubblico perché all'interno anche del nostro consiglio ci sono sensibilità diverse il consigliere Freccero ha legittimamente esposto una concezione del servizio pubblico come servizio sociale per lui la RAI non è altro che uno strumento dello stato sociale io rispetto questa posizione ma credo che ci sia qualche cosa di più rispetto allo stato sociale e all'espressione dello stato sociale cioè la RAI non può essere soltanto un servizio sociale e non può essere soltanto un complemento della pubblica istruzione perché se così facesse sarebbe Leijar aspetta fammi finire sarebbe Leijar sarebbe l'espressione di un pensiero unico che svolge una funzione didattica all'interno del paese e svolge anche una funzione sociale che è assolutamente legittima necessaria e indispensabile ma la RAI in un sistema democratico non può essere solo quello la RAI il servizio pubblico e non lo dico io perché ne sono convinto sì ne sono convinto ma lo dico anche sulla base delle sentenze della Cassazione della Corte Costituzionale della dottrina giuridica consolidata deve garantire e servizio pubblico in quanto garante del pluralismo della comunicazione e dell'informazione delle culture non dei partiti attenzione delle culture degli interessi delle sensibilità dei territori la RAI deve essere lo specchio del paese allora per essere lo specchio del paese deve sicuramente avere una struttura di gestione efficiente che non va contestata ma la struttura di gestione efficiente deve essere messa nella condizione di poter essere sottoposta a controllo noi dovremmo svolgere questo controllo ma la fase di transizione che siamo costretti a vivere e a gestire è una fase di transizione che a noi dà responsabilità ma impedisce di avere compiti perché tutti quanti i compiti grazie alla nuova legge ricadono sulle spalle del direttore generale diventato amministratore delegato il che è una scelta che io non voglio sindacare né posso sindacare è una scelta di cui posso prendere semplicemente atto però come consigliere mi debbo porre il problema di come si esercita questo controllo di come si esercita questo controllo e come si esercita la funzione di indirizzo non avendo alcun potere all'interno dell'azienda e spero e per fortuna non abbiamo più i poteri che c'erano una volta che erano poteri impropri ma non abbiamo neppure i poteri di poter esercitare dei controlli che siano efficaci io ad esempio ieri nell'approvazione dello statuto ho votato contro non perché contesto la legge la legge si applica cioè le leggi nel nostro paese ringraziando di dio si applicano però sempre ringraziando di dio si possono discutere cioè non sono le leggi delle tavole della legge e non si possono assolutamente mettere in discussione e io personalmente qui parlo anche a nome del collega Mazzucca che oggi non è potuto venire perché è impegnato a Milano in un convegno del suo giornale non posso non sottolineare il pericolo che questa legge che dà grandi poteri all'amministratore delegato e che di fatto riserva al consiglio di amministrazione solo delle responsabilità è il pericolo che l'applicazione di questa normativa in vista poi della successiva applicazione della parte successiva della normativa stessa cioè del cambio tra questo consiglio e il futuro consiglio del pericolo che questo comporta io condivido gran parte delle affermazioni fatte dal collega Sidi però credo che quelle affermazioni cariche di ottimismo anche di soddisfazione debbano essere mitigate da una visione leggermente più attenta una visione che tenga conto anche degli aspetti critici perché noi stiamo assumendo una responsabilità che nessuno ha avuto fino adesso che è quella come? uno si è preso spesso allora continuiamo continuare si è preso non si è preso però noi abbiamo addosso una responsabilità che è importante che è diversa da quella del passato noi dobbiamo garantire una transizione e dobbiamo fare in modo che questa transizione avvenga nel rispetto del fondamento del servizio pubblico perché il fondamento del è una misura di com'era lasciando la misura di com'era ma ovviamente siamo qui non per tagliarci le mani o fare carachiri siamo qui per cercare di migliorare perché c'è dare un contributo e come vedi il contributo lo stiamo dando sempre e lo voglio dire alla commissione di vigilanza il nostro apporto è assolutamente slegato dalle collocazioni politiche noi cerchiamo di dare un contributo sulla base delle nostre esperienze io faccio il giornalista da 40 anni do il mio contributo sulla base dell'esperienza che ho maturato così come tutti quanti gli altri ma non sulla base delle appartenenze naturalmente nessuno può poi cancellare la propria identità e quindi siamo espressioni ognuno di sensibilità e di posizioni politiche diverse però il contributo è sincero è spontaneo è volontario detto questo però il contributo non può essere acritico e io credo che si debba sottoporre alla commissione di vigilanza e al Parlamento di cui noi siamo espressione il problema di come assicurare un controllo costante e attento del rispetto del pluralismo perché se il pluralismo viene meno viene meno la stessa funzione del servizio pubblico cioè se il pluralismo non c'è non c'è neppure il servizio pubblico diventa un servizio di un'altra cosa un servizio privato e voglio insistere molto su questo punto perché quando si apre il discorso del rinnovo della convenzione noi dobbiamo avere la certezza che questa RAI rinnovata modernizzata proiettata verso la digitalizzazione in grado di compiere incredibili avventure sul terreno interno internazionale e anche forse planetario però rispetti la sua ragione d'essere perché se non c'è pluralismo non si capisce perché debba avere un canone potenziato e non si capisce perché debba avere una condizione oggettivamente di privilegio del panorama informativo nazionale una condizione di privilegio che in alcuni casi tende anche a squilibrare il sistema informativo nazionale perché la riflessione che nel convegno che insieme con Gasparri abbiamo organizzato ieri ha fatto per esempio il proprietario della Sette Cairo non è una riflessione che deve essere passata sotto silenzio perché dopo 5-6 anni di crisi generale del sistema informativo nazionale una RAI che può godere di un aumento di canone dato dall'abolizione dal tentativo di cancellare diciamo l'evasione e che quindi porta nelle casse della RAI ingenti quantitativi di denaro io da consigliere ripeto sono felicissimo di questo potrei essere contrario però dico che il legislatore si dovrebbe fare carico di creare un equilibrio di sistema perché altrimenti si colpisce la posizione non soltanto dell'emittenza privata radio televisiva ma anche quella della carta stampata allora nel sistema c'è un elemento di squilibrio e noi all'interno dell'azienda abbiamo un elemento non di squilibrio ma un elemento che va tenuto sotto controllo perché può determinare squilibrio allora noi siamo consapevoli del compito che ci spetta con le diverse sensibilità di ciascuno io personalmente sono consapevole che il mio ruolo all'interno dell'azienda deve essere quello di diciamo vigilanza critica vigilanza critica coscienza critica ahimè tiro in ballo vecchie formule appunto perché l'esperienza di frequentatore di questi palazzi mi porta a fare questo ma la vigilanza critica credo che sia indispensabile e quindi spero che su questa funzione possa avere anche il conforto il supporto perché no gli stimoli che potranno provenire dalla commissione di vigilanza grazie grazie forti prego grazie buongiorno io credo che nell'ambito di qualunque consiglio di amministrazione oltre alle differenze e le sensibilità dei vari consiglieri ci sono evidentemente anche delle diverse competenze professionali che ciascuno cerca di portare nell'ottica di massimizzare il risultato dell'azienda e delle proprie competenze io parlo per quello che è la mia esperienza professionale le competenze che credo poter apportare questo consiglio e vorrei partire innanzitutto da un aspetto cruciale che in questa fase di transizione siamo tutti ben consapevoli la RAIA di fronte cioè è stato toccato anche all'inizio l'intervento di Freccero questo punto è possibile combinare il servizio pubblico con la competitività perché stiamo parlando della compresenza di funzioni di un'azienda economica che ha però anche compiti di servizio pubblico ecco già è difficile in generale ma in momenti di cambiamento del mercato delle nuove e delle tecnologie diciamo così questa sfida è ancora più impegnativa quindi credo che è molto importante capire ciascuno dal proprio punto di vista dal proprio punto di vista dall'apporto che può dare come si possono ottemperare queste due esigenze essere competitivi sul mercato perché il mercato sta cambiando ci sono nuovi attori e quindi da una parte l'azienda ha bisogno di mantenere le sue quote di mercato di difenderle anche perché sono la base del suo successo economico che le permette a sua volta più è grande il successo economico di svolgere meglio anche il compito del servizio pubblico e qui ci sono secondo me alcuni punti interessanti che vorrei stressare allora il primo è proprio l'analisi del cambiamento a cui questo consiglio ha dedicato la massima attenzione nei suoi primi mesi di attività cambiamento delle tecnologie del mercato radio televisivo cambiamento anche del mercato pubblicitario perché tutto è legato in un insieme un altro punto è la capacità di in un momento di difficoltà anche a inquadrare quello che è la tendenza dello scenario economico mondiale di definire nella stesura del piano industriale e ai fini del piano industriale di avere ben chiare quelle che sono le prospettive dello scenario economico e qui in qualche misura ho cercato di fornire un contributo su questo perché siamo di fronte a un momento non facile di lettura della dinamica dell'economia mondiale europea quindi anche stendere dei piani industriali in un contesto del genere richiede estrema attenzione un terzo punto è quello di un'analisi visto che l'obiettivo è quello di garantire questo processo di transizione di un'azienda che deve essere più moderna e allo stesso tempo deve continuare a svolgere al massimo il suo compito del servizio pubblico è importante analizzare anche quelli che sono i fondamentali economici finanziari della società quindi il bilancio capire quali sono le criticità i fattori punti di forza le criticità di questo bilancio per poter arrivare ad una sua stabilità nel tempo e concludo su un punto per non dilungarmi perché penso che i tempi sono stretti anche forse altri colleghi hanno necessità di esporre il loro punto di vista su un aspetto che io credo sia fondamentale e su cui la mia attenzione è massima come consigliere che è quello della governance e della trasparenza sotto questo profilo credo che da parte di tutto il consiglio e dei vertici della società sia stata dedicata un'attenzione che io ritengo fondamentale e cruciale sul profilo della prevenzione della corruzione qui abbiamo addirittura rafforzato ai massimi livelli un'azione di prevenzione alla corruzione con la definizione di un piano triennale che è svolto in diretta collaborazione con l'ANAC e di cui vi vorrei riassumere alcuni punti fondamentali perché credo sia utile anche per voi per capire lo sforzo che si sta facendo per gestire questa transizione verso un nuovo tipo di società che sia al passo coi tempi e soprattutto offra ai cittadini e ai contribuenti le massime garanzie anche in termini di trasparenza allora il primo punto di questo piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 che si sta predisponendo con la definizione tra l'altro di organi e di funzioni apposite all'interno della società è l'elemento costitutivo proprio voglio evidenziare che questo piano è proprio un elemento costitutivo del sistema di controllo interno nella nuova visione necessita un coordinamento strutturale con gli altri modelli di controllo e tutti gli attori RAI e anche un modello moderno di risk management aspetto fondamentale questo focalizzato sulla prevenzione del rischio della corruzione opera a tutti i livelli dell'organizzazione con un coinvolgimento di tutto il personale e anche delle sedi perché il problema è studiare a tappeto e definire anche con degli score che ieri proprio abbiamo esaminato in consiglio score delle varie funzioni competenti all'interno della RAI quali sono i settori più soggetti a rischio e quelli che vanno monitorizzati più attentamente un piano che agisce sulla consapevolezza del ruolo e quindi della responsabilità delle posizioni organizzative facendo leva soprattutto sui rapporti gerarchico-funzionali quindi ci devono essere dei precisi livelli di competenze di responsabilità modello che richiede anche continui aggiornamenti e proprio per questo c'è un costante contatto con l'ANAC e un confronto continuo è un piano che richiede modalità specifiche nella gestione delle attività considerate sensibili quindi esposte a un più alto potenziale rischio di corruzione ed è esposto alla valutazione di adeguatezza da parte di soggetti esterni e a misure sanzionatorie e infine un processo complesso che necessita il pieno coinvolgimento dicevo di tutti i suoi attori ed è fortemente influenzato e per questo va continuamente monitorato e aggiornato dall'evoluzione del quadro normativo che siamo codici appalti riforma pubblica amministrazione la stessa legge di stabilità nello specifico concludo dicendo che come CDA in particolare designiamo il responsabile della prevenzione della corruzione il responsabile della trasparenza viene adottato il piano triannale suddetto di cui vi ho detto e si adottano gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione in cui si supervisionano le attività del responsabile della prevenzione della corruzione mediante incontri ed informative periodiche se non vado errato ne abbiamo già fatti tre se non sbaglio nei primi mesi di attività ecco questo ci tenevo a dirvi perché credo sia un punto importante anche quello della trasparenza della governance della società grazie Fortis Borioni prego sull'ordine dei lavori Rola io volevo chiedere alla presidenza se si poteva acquisire poi un eventuale prospetto dei punti salienti del piano anticorruzione insomma delle analisi che cosa pensa di fare che feedback pensano di attivare nel dettaglio grazie Borioni prego sì vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione preventivamente come si diceva come ha detto qualcuno prima di me ciascuno porta le proprie competenze io ho ricevuto nella prima parte di questa audizione due punti mi hanno molto colpito il primo è quando si è parlato di ricezione del segnale che può sembrare un tema un po' vuol dire non particolarmente esaltante rispetto al quale è stato risposto però mi interessa declinarlo ovvero la ricezione significa l'accesso delle persone al prodotto non è semplicemente la possibilità di accendere e l'altro tema di cui invece aveva accennato al quale aveva accennato il senatore Erola è quello del prodotto audiovisivo di Rai e d'altra parte Rai è stata definita la più grande azienda culturale creativa di questo paese e sotteso a questo concetto c'è oggettivamente e indubbiamente il tema della necessità del pluralismo a cui ha accennato anche il collega dieconale questo è perfettamente nelle competenze del consiglio di amministrazione perché noi abbiamo appunto come è stato più volte sottolineato oggi funzioni che attengono alle strategie e se c'è una strategia importante per un'azienda come Rai è proprio quella del prodotto della creazione di prodotto dell'edizione di prodotto e della produzione la situazione italiana più in generale è abbastanza come dire ha una certa complessità noi siamo come si è detto nei giorni scorsi si è parlato molto del prodotto culturale il prodotto creativo italiano si è parlato appunto di cifre di numero di addetti e così via sono meno noti i dati relativi alla ricchezza che questo porta perché l'Italia è uno dei maggiori paesi esportatori di beni culturale e creativi secondo i dati dell'Unctad ad esempio l'Italia è stata il secondo più importante esportatore di prodotti culturale e creativi dopo la Cina che come dire non è cosa assolutamente trascurabile e probabilmente fino al 2004 più o meno probabilmente quello che è accaduto è che una perdita di tensione per usare un delicato eufemismo su questo sull'industria culturale e creativa ha condotto diciamo a un certo rilassamento e quindi adesso siamo stati superati da paesi occidentali come la Germania e così via e questo è un grande problema evidentemente fra i prodotti culturali e creativi evidentemente l'audiovisivo è centrale ma mi viene da dire che non è solo questo cioè l'essere la più grande industria culturale italiana significa anche altro cioè significa essere da stimolo alla produzione e anche alla promozione di questo settore in Italia ma e soprattutto nel mondo ecco l'internazionalizzazione RAI produce molto produciamo una grande quantità di prodotto audiovisivo e filmico in particolare il problema è che la vera difficoltà è quella di esportarlo oggettivamente questo avviene rispetto al prodotto fiction il rapporto Mise-Mibact che è uscito all'agosto di quest'anno ci ha dimostrato che noi non esportiamo sostanzialmente fiction se non poche pochissime cose sostanzialmente è Montalbano e non è un problema di RAI questo cioè è un problema in generale della produzione di fiction italiana quindi questo riguarda anche le altre televisioni evidentemente a meno che chiaramente non stiamo parlando di coproduzione lì come dire l'esportazione è un po' nelle cose ugualmente per i film non riusciamo più a bucare come dire il mercato internazionale e questo è credo uno dei temi su cui riflettere ed uno dei temi strategici su cui deve riflettere RAI non ultimo perché l'onore ma l'onere anche della produzione di audiovisivo ricade sempre più sull'azienda pubblica radio televisiva e per ragioni oggettive cioè altri competitor hanno diminuito molto hanno deciso di essere come dire più passivi in qualche modo cioè di acquistare piuttosto che di accompagnare la creazione rispetto al tema della valorizzazione del prodotto e quindi si diceva c'è moltissimo prodotto che moltissimo audiovisivo che viene prodotto da RAI dov'è? intanto io aprirei una parentesi molto che tendo a chiudere diciamo velocemente non tutto quello che viene prodotto è come dire un successo il che tuttavia è insito nel processo creativo quando si entra nel processo creativo evidentemente non vi è la certezza del successo e della qualità assoluta perché il fallimento è insito nel processo creativo evidentemente questo è abbastanza delle cose quindi a volte non si raggiungono livelli straordinari e il tema della il tema diciamo dell'imbuto tra produzione e distribuzione è uno dei temi fondamentali l'Italia non ha più un tanto un problema di produzione di audiovisivo di film ma quanto quello di trovare i luoghi per riuscire a distribuirlo mi si dirà RAI ha un canale a Raymovie e a tanti altri tanti altri canali naturalmente si deve anche credo sia necessario anche trasmettere prodotto che abbia che vada incontro in qualche modo al gradimento delle persone ecco io credo che questo sia abbastanza fondamentale quindi qui si potrebbe iniziare a parlare del mainstream di qualità ad esempio che è uno dei temi fondamentali appunto delle grandi major televisive e non solo americane e non solo l'altro tema che accompagna questo quindi quello di permettere alle persone di accedere al prodotto che viene fatto dall'azienda dal servizio pubblico radio televisivo è quello dell'accesso dei creativi all'azienda pubblica al servizio pubblico radio televisivo perché naturalmente esiste un problema di accesso e di rottura in qualche modo la capacità di frantumare quel tetto di cristallo che c'è tra i creativi tra gli innovatori tra gli innovatori estremi tra quello che veniva chiamato il teatro off-off quello che è fuori da tutti i circuiti e che comunque è molto spesso un motore di innovazione forte questo io credo sia fondamentale esistono modelli molto interessanti da questo punto di vista nella BBC si occupa del usa questi sistemi di commissioning pubblica per cui sul sito di BBC ci sono avvisi pubblici in cui si dice noi vogliamo questo abbiamo bisogno di questa di questo numero di ore di questo tipo di questa pezzatura e accettiamo siamo qui ad accettare anzi a stimolare l'offerta è un tema molto interessante e io credo che in prospettiva sia anche una delle cose che si può prestare a fare anche perché in questo modo si entra anche in un percorso tutelato per i creatori molto tutelato in cui ad ogni sì e ad ogni no si risponde con un sì perché e un no perché cioè non c'è quel fenomeno di caduta nel nulla ad esempio si sa perché viene accettato e si sa perché non viene accettato perché non fa il passo avanti peraltro c'è anche una fortissima tutela sul piano dei diritti dei creatori perché poi questo è un altro grande tema molto interessante cioè la classe creativa non solo in Italia ma in assoluto non è andata in paradiso per usare il titolo di un film c'è un bellissimo un bel libro americano che si chiama The Creative Crash se non ricordo male cioè che racconta proprio come il mondo creativo rispetto alle nuove tecnologie si sia trovato di fronte a una come dire a tante possibilità ma anche a una serie di difficoltà estreme ecco io credo che e condivido questa idea con altri consiglieri che uno dei nostri delle nostre finalità strategiche sia nel senso del sostegno dell'Italia all'estero esiste quella cosa che si chiama soft power di una certa importanza cioè la capacità di incidere sulla cultura internazionale non attraverso come dire armi convenzionali ma armi non convenzionali esatto soprattutto armi non convenzionali che sono proprio la cultura la creatività la diplomazia e così via e da questo punto di vista io credo che il tema di tenere insieme contemporaneità e memoria da parte della televisione e del servizio pubblico sia un tema fondamentale e io lancio ad esempio la capacità di stare nel presente ma anche non sto parlando di memoria casualmente oggi questo mi sembra chiaro è un giorno particolare da questo punto di vista però ecco sta a noi tenere insieme questo e in maniera anche molto innovativa mi viene in mente che il 2016 è sicuramente l'anno ad esempio del referendum l'anniversario del referendum monarchia repubblica ma è anche l'anniversario del primo voto alle donne non è un tema di come dire ha cambiato non solo il referendum ha cambiato l'Italia ma il voto alle donne ha cambiato evidentemente l'Italia perché è stato elettorato attivo e passivo ecco questa io credo che sia la funzione pubblica la funzione pubblica della RAI o comunque del concessionario pubblico quindi il sostegno della creatività il sostegno del prodotto italiano in Italia all'estero ferma restando i problemi di polarizzazione dei consumi e così via il tema ormai non è più la radio che ha ucciso anzi il video che ha ucciso le star della radio oggi è la televisione che quasi sta mangiandola il cinema ad esempio queste sono altre problematiche evidentemente però ecco io credo che da questo punto di vista sia assolutamente fondamentale noi possiamo fare il nostro naturalmente c'è tutto un tema che deve essere invece lasciato a legislature ad esempio l'altra volta col senatore Erola ci sono temi ad esempio su come in Italia si contrattano i diritti secondari dei prodotti audiovisivi cinematografici sono la conseguenza di normative che o noi ripensiamo seriamente o altrimenti continuerebbe ad avere produttori deboli molto deboli la perdita come dire e dei livelli come dire non paritari di contrattazione ecco io concludo qui anche perché come dire mi pare che nessuno ha parlato di prodotto di cinema di immagini di ciò che scorre e mi sembrava importante farlo grazie grazie prevo grazie presidente grazie a tutti voi grazie onorevoli senatori deputati per questa audizione io non la farò a lunga anche perché molte cose sono state dette sono molto rappresentato dall'intervento di Sidi della consigliera Borrioni e di tutti gli altri insomma con accenti diversi che avrete senz'altro colto e notato ma questo è un consiglio di amministrazione che d'altra parte avete saputo volere e anche di questo bisogna rendersi insieme conto che diciamo è questo strano incontro tra l'ultima cosa dell'era passata e la prima cosa dell'era futura lo vediamo anche bene plasticamente quando vi è stato riferito nell'approvazione dello statuto si notano due colonne c'è lo statuto che riguarda questo consiglio di amministrazione e abbiamo anche approvato mi alzo perché così ci vediamo meglio lo statuto che riguarderà il prossimo consiglio di amministrazione non è che ci sia perlomeno a mio modo di vedere questo grande questo grande distinguo ma c'è una forte orientamento verso una determinazione di un'azienda pubblica che diventa sempre più asciutta nella governance e sempre più orientata agli obiettivi che già oggi però ci troviamo a dover governare e quali sono questi obiettivi allora diciamo se noi siamo a questo punto di confine elettrico la legge Gasparri però non siamo più diciamo i portatori i terminali stretti di una rappresentanza politica all'interno della di un'azienda pubblica grande e importante qual è la RAI siamo una serie di esperienze una serie di culture che sanno dialogare che sanno anche diciamo differenziarsi ma che sono il momento centrale il momento più alto del governo di quell'azienda io sentendovi l'altra volta e poi ripassando per questi giorni che che attendevamo di rivederci quello che ci siamo detti e sentendo quello che hanno già detto i miei colleghi mi viene in mente vorrei essere breve e partire da una considerazione che stava nella domanda in una delle tre domande che ci poneva il senatore Pisicchio il primo intervento dell'altra volta e mi colpì quando insieme alla domanda sulla copertura insieme a domande più tecniche specialistiche ce ne ha fatta una come dire emotivamente di una certa caratura perché ci ha chiesto ma vorrei sapere dai consiglieri ma a voi consiglieri cosa vi aspettate dall'opera che state che siete intenti a svolgere bene io mi aspetto davvero sinceramente in faccia ad ognuno di noi ad ognuno di voi di produrre quel sistema di comunicazione di informazione di vicinanza con il popolo italiano che l'Italia merita e si sta aspettando ma lo sappiamo tutti al di là delle differenze diciamo che si sono espresse anche nel dibattito parlamentare sappiamo tutti che c'è un divario un distacco tra l'attesa e l'offerta e questo divario e il distacco tra l'attesa e l'offerta può essere colmato dobbiamo metterci anche reciprocamente diciamo sotto osservazione perché questo è giusto è normale che sia però metterci su questo terreno di sfida mi è capitato di incontrare recentemente un'affermazione a cui mi sono subito legato che mi raccontava che l'Italia era importante perché l'Italia ha avuto tante fasi e per esempio una che ricordiamo bene è diciamo la liberazione dal fascismo la caduta della dittatura ma poi la fine della guerra ma poi ricordiamo bene anche la ricostruzione del paese ricordiamo bene anche lo sviluppo il boom gli anni 60 gli anni 70 quando i nostri padri operai riuscivano a rimettere insieme i quattro mattoni che per farsi la prima casa quella casa che abbiamo poi abitato noi noi da bambini bene quell'Italia lì in cui si affermava il servizio televisivo il servizio televisivo era governato e alla base di questo governo mi viene raccontato c'era una grande formidabile ambizione era quella di mandare a letto gli italiani con un po' più di serenità perché questa serenità si trasformava in voti non voti al governo in voti in partecipazione in senso della patria in senso di un modo di essere e se noi guardiamo la crisi proprio di relazione politica di relazione tra offerta e partecipazione sentiamo il grande bisogno del recupero di una grande diciamo modalità di pensiero che riporti a sentirsi tutti partecipi delle possibilità e degli interessi di questo paese bene io penso che noi con la RAI possiamo proporci ancora una volta di assolvere quel compito e guardate che ho sentito qui anche nei nostri accenti ho detto ci sono differenze diverse ci sono differenze ma è bene che ci siano guai ma la questione per esempio del canone e del fatto che sia non è una medicina amara la sento dire e ora con la ricchezza che state andando a prendere dovete farete vedrete concorriamo anche noi ne vogliamo un pezzetto siamo tutti partecipi come se si fosse trovato come dire una pozzetta nuova no abbiamo assolta un dovere un banale dovere per cui c'era il 70% che pagava il canone e lo pagava per l'importo che tutti ricordiamo mi sembra 113 euro e e l'altro 30% che non lo pagava il canone e allora voi il Parlamento questo Parlamento è riuscito a tirare fuori un maledio fra l'altro una pratica che giaceva e che propone che dispone l'atto per cui la risorsa del consumo del canone Rai diventa coperta per staremo a vedere ma insomma con una con un aumento insomma della contribuzione a cui normalmente partecipano tutti pagando meno e ripromettendosi anche di continuare a partecipare tutti cercando di pagare sempre meno ma questa è una conquista cioè questo è un elemento diciamo che stabilisce lo standard qualitativo del nostro rapporto con i cittadini certo pagano tutti pagano meno devono avere tutti la soddisfazione che che ci stiamo proponendo e come la devono e dove la possono avere che senso ha mi veniva da da dire che senso hanno le cose che ci tocca di attraversare tutti i giorni quando ne parliamo come ne parliamo stamattina mattina accendendo la televisione lo diceva bene la consigliera Borrioni poco fa è un giorno particolare questo mi viene da ricordare anche il maestro Etteroscola è una giornata particolare questo è il giorno della memoria non è la prima volta che nella storia della mia esistenza incontro il giorno della memoria avendo diverse lune insomma ne ho viste diverse di giornate della memoria stamattina quando ho acceso la televisione ho visto una presenza del giorno della memoria signori diversa è conseguenza di questa dell'assetto che oggi ha la RAI in cosa è diversa è diversa perché ho visto quello che noi si sta discutendo un piano una modalità editoriale a cui accedere da nutrire ho visto un pulviscolo uno mattina era caratterizzato dall'inviato al campo era caratterizzato dalle interviste dalla testimonianza dell'attrice dalla cantante ma in un diciamo in una presenza diffusa rarefatta modesta precisa puntuale commovente e ho pensato che questo sia uno degli approcci che dobbiamo avere cioè è finita è finita non la televisione è finita la società che conteneva la nostra vecchia televisione non c'è più non ci sono più i partiti di una volta non ci sono più nemmeno le ideologie di una volta nemmeno le crudezze di una volta c'è un grande bisogno c'è una grande domanda a cui noi ci proponiamo di dare risposta con più pluralismo ma pluralismo non vuol dire la repartizione la spartizione le famose commissioni vi ricordate non lo so vedo parecchi giovani ma il consiglio di amministrazione della RAE era nutrito da commissioni all'interno delle commissioni ogni partito aveva una sua rappresentanza dentro quella commissione si gestivano le relazioni relative al fatto che c'era la sinistra il centro la destra che avevano il loro campo di azione noi non lo siamo più e quelli che verranno dopo di noi lo saranno ancora meno di noi perché il tema del pluralismo sono le questioni e voi lo sapete bene lo sapete come me meglio di me le ho frequentate tutti i giorni tutti i giorni sono gli argomenti noi stiamo assistendo all'interno di questo paese anche in uno scontro politico è evidente ma ha un processo di riforme che attraversa l'insieme delle relazioni di tutti i cittadini che è inedito che non si era mai visto e che di cui noi siamo come dire testimoni no siamo partecipi siamo un momento all'interno del quale tutta questa discussione tutta questa puntualità deve essere la deve attraversare e la deve attraversare e la può attraversare avendo tutti ripeto e chiudo qui un compito preciso avendolo noi e voi dovendo noi riferire riportare e voi richiedere e il Parlamento legiferare e le spinte procedere perché l'Italia sia sempre un po' più moderna più contemporanea migliore e si possa andare a letto con un po' più di serenità grazie grazie se non ci sono interventi c'è Peluffo sull'ordine dei lavori prego sì grazie presidente le chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori non l'ho fatto all'inizio seduta per rispetto agli auditi e per rispetto alla stessa commissione visto che la seduta di oggi è convocata come seguito della precedente in cui non sono stati completati i lavori lo dico perché c'è una questione che non può vivere solo nelle agenzie nelle scaramucce da agenzie di stampa ma deve entrare in quest'aula perché qui sono ormai giorni e giorni che assistiamo a uno stilicidio di dichiarazioni da parte del leader possessore del simbolo proprietario del blog non so quella che è la definizione comunque in ogni caso che continua a definire l'azienda RAI come fascista ora si possono avere tutte le opinioni sulla RAI come su altro ma siccome in questo paese il fascismo ha una connotazione storica e politica precisa e nella memoria degli italiani io credo che sia inaccettabile questo continuo stilicidio e la campagna la vera e propria campagna che è stata lanciata sui social media e credo che sia indecente che venga ripetuto lo stesso epiteto la stessa aggressione anche nella giornata di oggi nella giornata della memoria Presidente intervengo in commissione non solo per fare queste considerazioni ma perché credo che ci sia un silenzio assordante che è il suo perché lei presiede una commissione di vigilanza che ha funzione di indirizzo e di controllo e io credo che dobbiamo anche accentuare il nostro ruolo di watchdog come direbbero nei paesi anglosassone nei confronti dell'azienda RAI ma allo stesso tempo questa è la commissione che deve difendere la concessionaria di servizio pubblico d'aggressione di questa natura per questo Presidente le chiedo alla presenza di tutti i gruppi di fare una discussione in ufficio di presidenza perché credo che questo non possa passare inosservato c'è un po' lì lo prego sull'ordine dei lavori sempre no allora no quindi è sull'ordine dei lavori allora sì grazie io la scorsa volta avevo accennato due questioni che poi vanno insieme in particolare ho visto che non c'è stata proprio risposta parliamo innanzitutto dell'ordine del giorno che è stato approvato al Senato e che prevede l'implementazione sul digitale terrestre di due canali quindi di due LCN in chiaro sul tutto il territorio nazionale per la trasmissione della diretta dei lavori di Camera e Senato e di questo non si ha notizia questo è molto grave perché c'è tra l'altro quasi all'unanimità è stata approvata questa cosa quindi Presidente sui MOOCs della RAI dovrebbero apparire quanto prima due nuovi canali quindi uno della diretta di Camera e il Senato che attualmente vanno solo sul satellite tra l'altro avevo anche chiesto l'UMI sulla questione di radioparlamento come avevo già riferito questo governo ha affidato per l'ennesima volta con la nuova legge di stabilità i lavori i servizi dei lavori parlamentari radiofonici a radio radicale allora se il governo spende 10 milioni di euro chiedo scusa colleghi sto parlando grazie ho concluso se questo governo ha affidato per 10 milioni di euro i servizi a radio radicale non si capisce l'utilità e la necessità del servizio di radio RAI Parlamento che viene diffuso in FM in analogico sul servizio terrestre sono soldi pubblici che vengono spesi in una maniera davvero davvero inutile ma soprattutto io le faccio un esempio presidente proprio domenica mattina ascoltavo sui 101 e 7 di radio Parlamento a Cassano Murgi in provincia di Bari ascoltavo musica io mi sarei aspettato magari qualche replica sulla discussione della riforma costituzionale i cittadini sicuramente potrebbero essere più interessati di questo ci sono tanti canali anche privati nazionali che trasmettono musica certo pagare anche la CIA che è un ulteriore costo perché evidentemente quando si manda musica si paga anche la CIA pagare anche la CIA per fare radioparlamento quindi energia elettrica impianti che hanno anche potenze di 10-12 mila watt quindi qual è l'utilità di radioparlamento quindi questa maggioranza di governo e questa dirigenza rai-renziana è inadempiente perché al di là delle belle parole di Renzi finisco al di là delle belle parole di Renzi ho finito questa maggioranza di governo non vuole informare i cittadini sui lavori parlamentari e questa è democrazia parole ma dittatura nei fatti grazie prego presidente allora io penso che ci sia un poco di confusione di base su quello che è il ruolo di un consiglio di amministrazione di un'azienda di servizio pubblico la gestione è una cosa le scelte specifiche sono una cosa gli indirizzi sono un'altra quindi sulle scelte specifiche sul perché del canale X allora Y era trasmessa una cosa o un'altra lei avrà di fronte a sé il direttore generale e il direttore editoriale at large chiamiamolo così Verdelli ai quali pure la questione se poi il problema è quello del fatto che la RAI rappresenta o no adeguatamente e sufficientemente i lavori del Parlamento all'interno dei suoi canali all'interno delle sue testate eccetera riallargheremo il discorso ne parleremo insieme vi diremo che cosa ne pensiamo francamente non sento un'assenza di rappresentazione in questo momento si può dare un'organicità diversa si può migliorare quello che si sta facendo non vi è dubbio alcuno considerarlo alla luce delle tematiche che abbiamo sollevato oggi l'argomento principe o chiedere a un consiglio di amministrazione perché c'era in onda la musica o no all'ora X questo francamente è un poco fuori dal ruolo e guardi ne ripariamo la prossima volta arrivederla grazie ci sono altri interventi perfetto grazie